Noi ci troviamo davanti a una responsabilità molto grande che è quella di comprendere anche alla luce delle scoperte scientifiche quale sia il valore della vita fin dal momento del suo inizio e per questo noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci è mancato in questi dieci anni. In questi dieci anni noi abbiamo assistito da un lato a un'aggressione sistematica, ai diversi aspetti caratterizzanti della legge che pure non sono riusciti a smontarne l'impianto fondamentale, mettono in condizione a volte di ignorarlo, possono mettere a volte in condizione la magistratura nell'utilizzare pesi e misure diverse rispetto alle parti della legge, ma non hanno smontato il cuore stesso della legge che è nell'articolo 1 e che è nella parità dei diritti che ci sono tra madre, padre e concepito. Questo che è un concetto elementare di democrazia perché mette per così dire i più forti sullo stesso piano del più debole e che dovrebbe essere cavalcato come un valore straordinario in una cultura dei diritti individuali, viene sistematicamente in qualche modo o ignorato o accantonato. Noi ci schieriamo dalla parte del diritto dei più deboli, in questo caso dalla parte del diritto dell'embrione appena concepito.